E dalle multinazionali passiamo ora ad occuparci delle piccole imprese che devono fare i conti con la burocrazia che si conferma una delle palle al piede più pesanti per la nostra economia con un costo non da poco sia in termini di tempo che naturalmente in termini di denaro. Sentiamo Leonardo Rossi. Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli. Si potrebbe riassumere con questa vecchia ma efficace battuta il rapporto tra le piccole e medie imprese artigiane e la burocrazia. Certo, l'informatica ha cambiato in meglio molte cose, ma star dietro a tutte le lunghe e complesse richieste della pubblica amministrazione, calcola una ricerca della CNA, costa comunque la bella cifra di 22 miliardi l'anno, 5.000 euro in media ad azienda. Per tutte le pratiche e gli adempimenti richiesti dall'amministrazione pubblica, più del 41% delle imprese impiega tre giorni al mese. Il 32% arriva a 5 giorni, il 9% ne brucia 10 e quasi il 7% perde più di 10 giorni ogni mese. Un ostacolo serio per la competitività. Pesa la complessità delle norme. Quasi il 68% delle imprese boccia la qualità legislativa italiana, troppa anche la quantità di informazioni richieste dalla pubblica amministrazione. Ed è un serio problema anche la lentezza della macchina burocratica. Che cosa fare allora per migliorare la situazione? Procedure e normative semplici, facili da applicare e che non cambiano tutti i momenti. La scia dell'edilizia dal 2011 è cambiata ben sette volte. Uso intensivo dell'informatica. Abbiamo visto che l'utilizzo del DURC online funziona. Ed infine i siti della pubblica amministrazione devono essere aggiornati e facilmente consultabili. Questo aiuta il rapporto con la pubblica amministrazione.